Il direttore sportivo Roberto Canepa inizia ufficialmente oggi la stagione del Savona con la presentazione qui in comune, un precampionato molto positivo, 13 gol nelle prime due partite ufficiali, la prima contro la Massese un po' particolare, però un bel biglietto da visita per il campionato che parte finalmente domenica. Sicuramente la domenica il gioco è un'altra cosa, inizia il campionato, inizia la stagione nel vero senso della parola, stagione che è stata posticipata ai MEP non per volere delle squadre, ma per questa situazione un po' grottesca che si è configurata nel calcio italiano dalla B a scendere. Comunque, un campionato particolare, ritorniamo in quello che secondo me è il girone classico a cui ha sempre partecipato il Savona, come ho detto anche in altre occasioni, ogni girone ha le sue proie erogative e le sue difficoltà. Ormai con i sistemi e i mezzi che la tecnologia mette a disposizione di tutta la società, gli avversari si conoscono, si possono conoscere quasi in tempo reale, la settimana prima, vedere la partita alle palle inattive, quindi sarà un lavoro per lo staff e per l'area tecnica importante. La squadra sta studando la maglia, questa è la cosa importante, giustamente abbiamo deciso di mantenere un low profile, come dicono le ore di moda, ma un basso profilo. Giocheremo partita per partita facendo il massimo di quello che sarà le nostre possibilità e poi come ha detto anche prima Francesco, a maggio tireremo le somme. Lo staff mi sento di dire che sta lavorando in maniera importante, la squadra lo segue, anche oggi hanno lavorato sul campo come stanno facendo da 30 giorni con la dedizione e la professionalità e proprio il cuore che devono mettere dei giocatori che indossano la maglia del Savona. Quindi niente, adesso c'è da lavorare, c'è da continuare a lavorare, non fermarsi e cercare di fare i risultati che ci auguriamo tutti. Una rosa molto ampia, soprattutto rispetto alla seconda parte della scorsa stagione, qual è stata un po' l'idea di base nell'andare a costruire questo gruppo? Abbiamo tanti giovani, se avete fatto caso, abbiamo rubato un po' l'idea anche all'albissolo lo scorso anno di Fabio Fossati, tanti giovani importanti, tanti giovani in prestito anche società professionistica, qualcuno creato in casa e quindi avendo tanti giovani ci vogliono anche le alternative perché sappiamo che i giovani si sono rivelati importanti ma allo stesso tempo possono essere soggetti a più debolezze, fra virgolette, e a un logorio diverso. Quindi una rosa un po' più ampia in questo senso, abbiamo trovato secondo me dei ragazzi che per far parte del Savona hanno accettato anche di far parte di una rosa più ampia, sto parlando anche di qualche vecchio, che magari ha preferito stare a far parte di questa rosa e magari non andare a giocare titolare da qualche altra squadra, quindi anche questo ha dato dall'idea di attaccamento alla maglia. Ci sono rispetto all'anno scorso più confermati, se avete fatto caso, abbiamo cercato di dare un po' di continuità a quanto fatto nel girone di ritorno lo scorso anno, lo scorso anno come accennavi ci siamo dovuti trovare a fare una bonifica della rosa che si è rivelata poi anche una bonifica tecnica perché pur avendo ridotto il numero abbiamo ottenuto degli ottimi risultati. Quindi ecco il perché magari di una rosa un po' più ampia a inizio stagione quest'anno e poi vedremo il da farsi cammin facendo anche se sono sicuro che questi ragazzi faranno il loro dovere.